Sarà emanato entro il 31 ottobre prossimo l'avviso pubblico per le procedure di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dei titoli conseguiti in precedenza per quanto riguarda le professioni dell'area sanitaria e della riabilitazione. L'ha stabilito la giunta regionale delle Frui Venezia Giulia sulla proposta dell'assessore della salute Maria Sandra Telesca recuperando e recependo in questo modo le indicazioni del ministero della salute. Le professioni interessate sono fisioterapista, logopedista, ortotista, assistente in oftalomogia, il podologo, terapista delle neuro e psicomotricità delle teolute, tecnico della riabilitazione psichiatrica e terapista. Con la stessa delibera la giunta ha approvato poi il testo di un nuovo schema di avviso pubblico autorizzando allo stesso tempo il direttore delle risorse umane della direzione centrale salute a emanare gli avvisi e di avviare quindi le procedure di riconoscimento dell'equivalenza. Ma la giunta regionale delle Frui Venezia Giulia non si è occupato solo di questo perché l'assessore alla cultura Torrenti insieme alla giunta ha deliberato la ricostituzione del comitato tecnico a cui compete l'analisi e la valutazione delle produzioni audiovisive regionali che potranno essere ammesse a sostegni finanziati previsti da parte dell'amministrazione regionale. Del nuovo comitato fanno parte Stefano Teraldi, presidente Eva Ciuc, Luciano Roman e Luciano De Gusti, nonché come indicato la legge regionale 21 del 2006, la norma per la probabilizzazione e la valorizzazione del patrimonio della cultura cinematografica in Frui Venezia Giulia, il presidente del fondo dell'audiovisivo Frui Venezia Giulia, Paolo Vidali. Ultima nota da segnalare per quello che riguarda la giunta è la TAV perché nell'ambito delle procedure statali di valutazione di impatto ambientale del progetto di alta velocità, alta capacità, la giunta regionale su proposta dell'assessore dell'ambiente Serravito ha deliberato di richiedere un'integrazione progettuale per individuare un tracciato alternativo nel tratto tra il Friume Tagliamento e Cervignano che si sviluppi in affiancamento alla linea ferroviaria esistente. La delibera adattata oggi definisce anche prioritaria dal punto di vista temporale in quanto crescente e coerente con le strategie di sviluppo trasportistico e nel Frui Venezia Giulia la realizzazione delle interconnessioni in località Bivio San Polo di una fermata ferroviaria prospicente il polo intermodale di Ronchi dei Legionari delle interconnessioni al Bivio di Eurisina unitamente al raddoppio della Palmanova Udine.